E salve a tutti amici amiche, questo è Wildbox e io sono Bob e io sono Ginkgo Goggola ancora una volta qui al tuo piano in questa Battle Royale, una Battle Royale che vedrà come premio finale una valigetta da 1.000 euro e tutti rivolgono questi 1.000 euro Bob, guarda qui che parco lottatori, qui c'è l'eccellenza del wrestling italiano Allora vai sul ring Bob, ma non faresti buona fine e questo è una cosa che sa forse anche il nostro Fabio che sa di essere lo svantaggioso, infatti no, si becca subito un super kick Sì, ognuno prende un avversario, prende un avversario, ne vediamo tanti, Ronin e Picchio, Adriano che prende a gomitate Ed è Inter, Trainer e poi Bon e Raphael che si alleano chiaramente essendo i lucky lovers Ovviamente Chip si alleano, i due! Da coppia su, forte! Attenzione! Forse, forse gliel'ho fatto di eliminare da Picchio e da Flash Chip, devono stare cittro io Ancora Ronin che cerca di eliminare Alex Flash e forse ce la fa E Picchio con Adam Sheppard, ma che miracolo di Flash che rimane in gioco Sì, ricordiamo che in questa tecnologia di match devono toccare tutti e due i piedi a seta, appunto, così, seconda puntata della serata Flash va giù, Flash va giù Continuiscono gli atleti, sono rimasti veramente in pochi Adam Sheppard, Adriano, Ronin, miracolo di Picchio che rimane in gioco anche lui fuori da Underkid E quindi rimangono cinque atleti sul quadrato La Battle Royale entra nel vivo Adam Sheppard si salva O forse no, o forse no Ancora in bilico, con un'altra e fuori Adam Sheppard Rimangono in quattro, Picchio E che inter-trainer Vediamo questi Final Four L'aria si fa tesa E chi vince, Gino? Chi vince? Chi vince proprio? Il più in forma è Picchio, lo sappiamo, dai Secondo me è il Samurai di Giaccio, intanto Il Samurai di Giaccio se lo prende, è convente il trainer che però poi viene attaccato da Adriano E allora Picchio e Ronin, che storia tra i due Ci sono giocati il titolo di number one contender Per il titolo wide Sì, match che vedremo a Pisa il titolo, se non sbaglio Siamo nella fede per quel match, ma qui adesso pensiamo a questi peneletti mille euro, Bob Chi se li porterà a casa? Chi andrà a farti un viaggetto rilassante Con questa vita stressante dal lottatore Sicuramente Picchio noto, il che è lì, che sta per cadere dal quadrato Bob invece sì, è regola questa Sì, va giù Sì, va giù Sì, sono rimasti in due Sì, sono rimasti in due Sì Adriano, che può provare la doppietta Attenzione L'Academy Dovrà eliminare Sì, Adriano vince Adriano vince Adriano ha vinto questo match in Royale, Gip Sì, ha vinto Ma no Rientra dall'avviso Mort Non ci credo Gip Non ci credo Il segno della croce È il suo momento Il momento della sua vita Sì, ha vinto No, no Gip, Mort No Gip non ha visto Mort Gip non ha visto Mort Adriano è salvo Mort 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 non se n'è accorto Se lo carica Lo prende di peso Indica il cuore E lo elimina No, no Sì Sì L'ha eliminato Gip E quindi questa volta è ufficiale Adriano ha vinto La sua seconda Batte e bralla di fila Incredibile Lei!